Ciao a tutti ragazzi sono Moon, benvenuti in questo nuovo video vlog Oggi non sono qui per giocare, ma sono qui per comunicarvi una cosa bellissima Cioè, il Luke4316 ragazzi è arrivato a 600.000 iscritti, bravo amore mio Io sono contenta che sei arrivato fino a qua perché ci sei arrivato comunque da solo Quindi senza nessun aiuto, ti sei fatto le ciapette grosse cosi E io sono felicissima ovviamente Che ti amo, vabbè, già lo sai, quindi non c'è bisogno che te lo dico Però ti dico un'altra cosa, lo sai che sono piena di sorprese, no? Ma goditi tutto il video e vedi che cosa succederà Ti do un bacione e ti saluto, ciao amore Ciao Lu, allora mi trovo nel tuo bagno perché uno dei tuoi sette uccellini che senti Mi ha detto che sei arrivato a 600.000 iscritti E a me non me lo dici Oh, ma dovevo festeggià qua? Dovevo festeggià? Dai Lu, sei arrivato a 600.000 iscritti, mamma mia che traguardo Mamma mia ti auguro il più bene dell'anima Ti voglio bene amico mio E pure i tuoi uccellini ti vogliono bene Senti quanto cinguettano e cantano sempre cip 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 Ciao Lu, auguri per i 600.000 iscritti, ciao bacione Wewe, caro Lu, tantissimi auguri, complimenti per i 600.000 iscritti E ancora tante tante grazie perché senza di te, che lo sappiano tutti Io su YouTube non esisterei perché il canale Creda 75 l'ha creato Lu, più o meno quasi Quindi grazie mille, c'è tanta tanta gratitudine per quello che fai tutti i giorni Da parte mia e da parte di tutti i tuoi fan, che sono tanti Ecco, diciamo che adesso che hai 600.000 iscritti Più o meno il tuo canale lo vedo col binoccolo Complimenti, tanti 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 complimenti, ciao Ciao Lu, auguri per i tuoi 32 anni Ah, ma non è il video per il compleanno E che cazzo di video è Lu? Ah, ho capito, questo è il video per il compleanno E per i 600.000 iscritti Ma complimenti, sei arrivato a questo grande traguardo Guarda, ti auguro davvero il meglio Spero che arrivi a più di 600.000 iscritti Magari a 601.000 iscritti No, bene, ti sto scherzando Ti auguro di arrivare davvero al massimo di superare un milione, due milioni, tre milioni Perché per me rimarrai sempre lo youtuber migliore Indifferentemente dagli iscritti, penso che sei il migliore che si possa trovare su YouTube Italia E' difficile trovare persone come te Quindi ti faccio ancora tanti, tanti auguri E weh weh anche da parte mia Ciao Lu, complimenti per i tuoi 600.000 iscritti E niente, continuo così che arriverai più presto un milione Un abbraccio, un bacio a Minecraft Ciao Lu, sono Kino Volevo farti gli auguri per i 600.000 iscritti Ora vogliamo aprire questo bello ruffumante qua E che ne dici, lo apriamo? Subito, sve ne approfitto Vengo un po' di riguardo A parte le scherze, Lu, auguri Questa è una scenetta che ho fatto così, giusto per aprire magari sta a parte un sorrisino Sono un pirla Ciao, auguri Faccio Minecraft Ciao a tutti ragazzi, sono Luke Che cazzo stavo dicendo? No, no, non è la cosa che me lo faccio Ciao Luke Oggi sono qui con la mia ragazza Veronica Che è un po' timida Quindi scusa se non parla Ma sai, è timida E siamo molto contenti per te Che sei arrivato a 600.000 iscritti Attenzione, attenzione 600.000 iscritti 600.000 pollici in su 600.000 condivisioni 600.000 mi piace 600.000 pollici in su 600.000 mi piace 600.000 pollici in su Commentate il video, mi raccomando E iscrivetevi al canale No, no, scrivo chiazzando Nel senso, volevo dire Complimenti Cioè, veramente Quando arrivi a 700.000 iscritti Eh, vabbè, dai Tanto ormai ti conosco Adesso fai 700 Ma io volevo che arrivavi a 800 800 Ma io volevo che arrivavi a 600 900 No, ho detto 600 600 Perfetto Siamo contenti per te Dai, dal staff del TS E' da la mia ragazza Mettete mi piace Ciao Stammi bene E ciao Lu Ti volevamo presentare questo gioco Minecraft Non so se lo conosci E' un gioco carino Questo Minecraft Se l'hai sentito Adesso si, facci qualche video E' molto carino A parte i scherzi Comunque con Siamo per i 600.000 iscritti Ah, sono Matt E' bimbo minchia Sono Matt E' che cazzo saluta Sto buo Ma, ma che sei Gis Lo pensavo che mi stavi dicendo Cosa dicevi Tu ma come lo dici Bimbo minchia La domanda così Non mi interessa Ah, devo salutare Ciao Lu Congratulazioni per i 600.000 iscritti Perfetto Fine Ma, fatto Fa Perfetto Ciao Lu Sono Anime E veramente tantissimi complimenti Per i 600.000 iscritti Sono veramente tanti Non ti fermare Questo è solo un checkpoint Ancora avanti Fino a un milione e oltre Ti faccio tantissimi complimenti Un augurio Anche un bacio Ciao Ciao Lu Basta Perfetto Qui ci sono meno rumori molesti Forse Sono qui per augurare a Luke 43-23 I suoi 43-63 Luke 23 Giocali alla schedina stasera Sono qui per augurare a Luke Un buon compleanno E tantissimi auguri Ah no Non è il compleanno Non erano 50 Sono qui per augurare 600k Luke 43-16 Sono veramente molto contento Te li meriti Tut 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 Tutti Dal primo All'ultimo Dallo 0 Al 600.000 Esimo Esimo Miso Lo so Vi starete chiedendo Ma chi cazzo è questo Io sono Satischio Satischio Con l'accento sulla A Non fermarti mai Non mollare mai Perché i tuoi video Sono come lo zucchero nel caffè Precisamente lo zucchero di canna Coincidenze? Io non credo Ancora un augurio Di vero Vero cuore Dasatischio E che dire E Affaculo va Con affetto Satirio Ciao Lu Anch'io mi volevo congratulare con te Per il traguardo raggiunto Dei 600.000 iscritti E 600.000 iscritti Sudati E con questo Ho preparato Con le mie manine Una buonissima torta Una torta Fatta con Pan brioche E Crema alle nocciole E con questo Ti do Da esprimere anche Un desiderio Che adesso Devi pensarlo Ok Poi io spengo La fiammella Tu sei arrivato qui Spero che questo qui Non sia Un obiettivo raggiunto Ma un obiettivo Che ti faccia Ripartire meglio Di prima E ti faccia migliorare Ancora di più Io spero che Questi 600.000 Saranno davvero importanti Per te E spero davvero Che questi messaggi Dalle persone Che ti vogliono davvero bene E vengono apprezzati Luke purtroppo Non c'è molto tempo Però ti volevo fare Davvero questi auguri Quindi Forza Tigre Ciao Luke Un ciao da Vecchietto E da Kira Ciao Niente Volevamo fare Dei sinceri Complimenti E congratulazioni Non penso auguri sia E congratulazioni Per i tuoi Finalmente 600.000 iscritti Siamo veramente contenti per te Un grazie di cuore Per tutti i video Tutto l'intrattenimento Che ci regali ogni giorno Con i tuoi video Con le tue live Con le novità E niente Siamo felici di questo Un grosso abbraccio di cuore Veramente Perché sei Una bella persona Più che youtuber Una bella persona Giusto? Sì Congratulazioni E Tante cose belle Perché te lo meriti E vai avanti così Veramente Perché Appunto 600.000 Sono tutti tuoi Senza Nessun intervento esterno Sono tutti Sudati Reali Quindi Niente Vai avanti così Luke E grazie ancora di tutto E Sai perché? Perché lui è Luke 4316 Ciao Ciao Luke Hai fatto 600.000 E noi siamo a Pisa Attualmente Quindi Te lo facciamo da qua Da un ristorante Pisano Auguroni per i 600.000 Tanti auguri Sempre nei nostri cuori Ciao ragazzi Sono Masarone Ed è la prima volta Che mi vedete Effettivamente Su questo canale Sono stato contattato Dal Per fare questo video Per fare questo video E che cosa celebra Questo video Questo video celebra Il raggiungimento Dei 600.000 Iscritti Di Luke Io Non voglio rubarvi Troppo tempo Per cui Lascerò Solo Un breve Messaggio Io Luke L'ho conosciuto Più di 3 anni No Che dico 5 anni fa Forse E il nostro Non è stato Per niente Un Un incontro D'amicizia Anzi È finita Che m'ha bannato Dal TS Che cosa strana Eh Vabbè Ma Luke È così Gli vogliamo bene Anche per questo E poi Pian pianino Ci siamo Riappacificati Abbiamo chiacchierato Abbiamo trovato Anche dei punti In comune Lui completa Me come Io completo Lui No Penso che questo Sia qualcosa Che deve dire Bun Non lo devo dire Io Comunque Semplicemente Volevo dire Questo Luke Lo conosco Da diversi anni Non l'ho visto Mai mollare Sempre combattuto E questo Gli fa Veramente Onore Io Con questo Lo saluto E gli faccio I complimenti E con questo Ragazzi Io vi saluto Non voglio rubarvi Altro tempo Complimenti ancora Luke E passa Mille di questi giorni Quindi Prepariamoci subito Per fare uno speciale 700.000 iscritti Ok Bene Ciao ciao ragazzi Ciao Luke4316 Mi sembra strano Chiamarti così Perché sei mio fratello E giustamente Ti chiamo sempre Luca Però Questo nome Te lo sei guadagnato E sei arrivato Fino qua E ti voglio fare I miei auguri Per i 600.000 iscritti E continua Così Tigre No 3 2 1 Ciao a tutti ragazzi Sono Dani E io sono Fuoco E oggi Viamo parlando di un discorso Piuttosto strano Perché senti 200 E non prendiamo la cazzo E su dove andrà a fa A web 300 E non prendiamo la cazzo Adoro far video 400 E non prendiamo la cazzo 500 E non prendiamo la cazzo 600 E non prendiamo la cazzo Ragazzi Non so Non tirere bene Ma sono 600.000 600.000 iscritti Quindi auguri Tanti auguri Grande Sempre così In gamba Ne ho profittato Perché hanno invicato Scomorio di Lu E comunque Ho fatto una scritta 600k Iscritti Grande del traguardo Lu Continua così Tigre Ti vogliamo bene E non prendiamo la cazzo